Benvenuti su un nuovo video, sono Orko Verde In questo video volevo farvi sapere una notizia scioccante che è successa all'attrice di GTA V che abbiamo nella copertina Mi raccomando ragazzi è importante che voi condividiate questo video su tutti i vostri social network In quanto è una notizia importante che devono sapere più persone Quindi ragazzuoli condividete questo video Inoltre lasciate un bel pollice unisù per questa super novità di questa attrice Praticamente ragazzi questa attrice che abbiamo nella copertina di GTA V si chiama Line The Say Lohan se si pronuncia così La causa legale di Line The Say Lohan contro Rockstar Games e Tech 2 Interactive Per lo sfruttamento dell'immagine dell'attrice a scopo promozionale è stata rigettata dalla Corte d'Appello di New York Secondo i legali della Lohan la ragazza col bikini rosso stampata sul disco di GTA è visibile durante il caricamento iniziale Così come un'altra immagine che mostra una ragazza bionda arrestata da una poliziotta Viuderebbe i diritti della propria cliente E non dimentichiamoci del terzo personaggio a cui l'associa Ned Luck o Ned Luke il doppiatore di Michael The Santa A conferma delle proprie accuse i legali della Lohan hanno dichiarato che l'attrice ha usato il gesto della pace per anni prima e dopo l'utilizzo della sua immagine nel videogioco Ma a quanto pare la prova non è risultata abbastanza schiacciante e lo stesso vale per le seconde pretese mosse dagli avvocati Rockstar Games con l'immagine della ragazza in arresto avrebbe infatti capitalizzato il modello stile di vestire dell'attrice Utilizzando fedora, occhiali da soli, jeans, maglietta bianca e gioielli della querelante Ecco perché da oggi bisognerà pagare diritti alla Lind Seilohan per vestirsi in modo casual Inoltre per i legali le iniziali L e O della scritta Love Fist o Love Feist Immaginaria e storica band presente in GTA fine da Vice City Suggerirebbero subliminalmente la parola Lohan La Corte d'Appello ha infatti sentenziato che le immagini presenti nel videogioco non si qualificano come commerciali o pubblicità Anche se accettassimo le accuse della querelante e le raffigurazioni del videogioco Fussero abbastanza somiglianti per essere considerate rappresentazioni dei rispettivi attori I reclami della querelante devono essere respinti perché questo videogioco non rientra nella definizione legale di pubblicità La storia originale, i personaggi, i dialoghi e l'ambiente di questo videogioco, ovvero GTA V In combinazione con la capacità del giocatore di scegliere come procedere nella storia Lo rendono un lavoro di finzione e satira Ragazzuoli, adesso c'è il momento più importante che dovete capire in questo video L'ho letto apposta per ultimo in quanto è appunto il più importante Ed è per questo che ho fatto il video, dovete saperlo tutti Con questo verdetto si chiude una vicenda durata fin troppo Ed è inoltre confermato che le immagini pubblicitarie usate per GTA V Non rappresentano la Loan stessa ma semplicemente un personaggio del gioco Che l'indice Loan sostiene essere una rappresentazione della propria persona Allo stesso modo la Corte d'Appello ha respinto una causa simile intentata da Karen Gravano Figlia del mafioso Salvatore Gravano Attualmente rinchiusa in prigione per la presenza in GTA V Del personaggio di Antonia Bottino Se non avete ancora capito l'argomento ve lo spiegherò ora Praticamente l'indice Loan che sarebbe, ripeto, l'attrice nella copertina di GTA V E anche nella schermata di gioco iniziale quando avviate il gioco L'indice Loan per due anni di udienze e di battimenti in tribunale Ha cercato di condannare la Rockstar Games e la Tech 2 Per lo sfruttamento della sua immagine Per l'attrice e cantante e modella statunitense L'avvenente ragazza in bikini presente sulla cover di GTA V Come vi ho detto all'inizio video È troppo somigliante ad una sua famosa foto di qualche anno prima Ma non solo questo Nel corso del gioco ci si imbatti in un'altra signorina Ovvero la Sei Jonas Ancora una volta troppo somigliante alla l'indice Loan in carne ed ossa In poche parole, a mie parole L'indice Loan, ovvero l'attrice che vediamo nella copertina di GTA V Ha cercato di condannare la Rockstar Games e la Tech 2 Perché la Rockstar ha utilizzato la sua immagine Sia nella schermata principale quando avviate GTA V Sia nella copertina di GTA V E dato che questa qui si è rivolta alla Corte d'Appello di New York Loro gli hanno detto che praticamente questa foto Questa immagine che hanno utilizzato Rockstar nel gioco Non è utilizzata ai fini pubblicitari o di commercio Nel senso che Rockstar non ci guadagna un emerito cazzo Se ha aggiunto l'immagine di questa attrice in GTA V insomma E comunque sia ragazzi proprio per questo motivo La Corte d'Appello di New York si è rivolta contro questa attrice Dando così ragione a Rockstar Games Che fortunatamente si è salvata Solo per non aver utilizzato questa immagine di questa attrice Ai fini pubblicitari o di commercio Perché se utilizzava questa immagine come fini pubblicitari o di commercio Quindi ci guadagnava sopra Alla fine Rockstar non so se avrebbe riterato GTA V O comunque sia non l'avrebbe più venduto O comunque sia venduto ma con un'altra copertina E sarebbe stato comunque un casino Io ragazzi ho cercato di spiegarvi tutto il possibile riguardo questa faccenda Se ci saranno altre novità sempre riguardo questa faccenda Ve le porterò sempre sul canale In quanto penso sia un argomento interessante nel canale Che magari vorreste sapere e che non potete sapere Perché magari non siete in un forum O comunque sia provate a cercare su internet e su google Sulle notizie di Rockstar Games Sicuramente qualcosa vi spunterà anche in italiano Dato che questo video lo carico sicuramente il giorno dopo Da quando l'ho editato Quindi probabilmente avrete anche fonti in italiano Che spiegano questo argomento insomma Di quello che vi ho detto appena ora Comunque sia ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto E soprattutto ragazzi commentate Scrivete fra i commenti se ci siete rimasti lì Io sinceramente ragazzi non me lo aspettavo Il casino è nato ora nonostante GT5 è uscito nel 2013 E la copertina non è mai stata cambiata È sempre stata quella e non è mai successo nulla E anche questa ragazzi mi sembra un po' strana come cosa Niente ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto Lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale Condividete questo video sui vari social network Mi raccomando ragazzi condividetelo su Facebook, su Google Insieme ai vostri amici Da diffondere questa notizia Che sicuramente molte persone non sapranno E che giocano a GT5 E da Orkku vede tutto Noi ci vediamo al prossimo video Bella